È necessario organizzare un tavolo tra la Regione e gli agricoltori per valutare gli interventi da attuare. È ciò che si evince dalle parole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, incontrando gli agricoltori in protesta con i loro trattori a Rosarno. La maggior parte delle rivendicazioni riguardano l'Europa e il Governo nazionale, ma anche la Regione, spiega Occhiuto, deve essere impegnata a rendere il lavoro degli agricoltori più semplice. Oggi sono venuto volentieri anche per attestare la solidarietà della Regione alla battaglia che voi state conducendo. È chiaro che io sono il Presidente della Regione e quindi la solidarietà di chi governa deve essere una solidarietà che si traduce con atti concreti. La maggior parte delle vostre rivendicazioni riguardano l'Europa, il Governo nazionale, però anche noi come Regione dobbiamo essere impegnati a rendere il vostro lavoro più semplice. Per quanto mi riguarda, io sono disponibile a fare una riunione insieme all'assessore dell'agricoltura per vedere come la Regione può esservi più vicina.